I bambini delle scuole elementari dell'Istituto Comprensivo di Via Marconi sono stati i protagonisti di una performance singolare organizzata nei giorni scorsi al centro sportivo del paese, tra gli appuntamenti del festival Corpi in Movimento organizzato da Danzeventi. Le performer Valentina Pagliarani e Sissi Bassani di Catriem hanno coinvolto gli scolari spingendoli a risolvere una serie di equazioni alla ricerca dell'elemento F, simbolo della felicità e anche titolo del lavoro. Le formule matematiche hanno utilizzato quattro elementi con i quali gli adulti cercano di trovare la felicità senza mai riuscirci. Sono stati i propri piccoli protagonisti a trovare la soluzione, aggiungendo altri elementi propri dell'infanzia. Il laboratorio all'aperto ha rappresentato una sorta di anticamera al vero e proprio momento artistico della visione performativa della danza, del movimento del corpo che è stato raccontato nella seconda parte all'interno del palazzetto. Noi atterriamo come una sorta di cosmonauti su questa terra tutta rossa, nel quale ritroviamo questi elementi che i bambini ci hanno ricordato. Quindi troviamo il gioco, troviamo la natura, gli animali, troviamo uno stare insieme e quindi in qualche modo per me quella terra tutta rossa è la terra dell'infanzia. Il prossimo e ultimo appuntamento di Corpi in Movimento a Senori sarà l'8 ottobre alle 21 nei locali del Centro Culturale, con uno speciale omaggio a Pina Bausch a Dieci Anni dalla Morte, interpretato dalla compagnia Artemis Stanza per ideazione, la coreografia e la regia di Monica Casadei. Grazie.